buongiorno a tutti allora come promesso veniamo alle pagelle della nostra serie a quindi è finito il girone di andata e quindi è come se fosse il primo quadrimestre della scuola come fanno anche gli simpatici autogol che probabilmente faranno sicuramente il video o se l'hanno già fatto ma non ho ancora avuto il piacere di vederlo che riguarda il campionato italiano e come sarebbe il campionato italiano se fosse la scuola per vedere un attimino i voti delle varie squadre se sono promossi oppure se hanno bisogno di ripetizioni o se no sono già lì che mi spiace ciccio ma se vai avanti così tu l'anno prossimo ripeti ripeti quindi veniamo innanzitutto alla classifica che vede la juventus a 53 il napoli a 44 l'intera 39 la lazio 32 milan a 31 roma 30 san 29 atalanta 28 torino 27 fiorentina 26 sassuola e parma 25 cagliare genova 20 udinese 18 spal 17 empoli 16 bologna 13 frosinone 10 e chievo 8 quindi partiamo subito dal voto più basso a salire quindi partiamo dal chievo a cui ho dato un bel 4 4 perché allora innanzitutto cambi l'allenatore cambi l'allenatore mandi via d'anna vai a prendere ventura ventura ha accettato l'incarico praticamente nella serie sono disperato accetto pronto a tutto e poi come è arrivato lì si è reso conto che la situazione lui più di tanto non è che potesse far miracoli e come ha detto anche pelissier non veniva non vedeva l'ora di andarsene della serie chi me l'ha fatto fare adesso con di carlo che conosce l'ambiente ha già allenato il chievo eccetera eccetera piano piano il chievo sta cercando di tra virgolette risalire la china partiva anche da meno 3 quindi avrebbe 11 punti e non 8 quindi sarebbe lì in zona salvezza tra virgolette diciamo che se la può ancora giocare sarà durissima però ahimè sei ultimo in classifica non è che ti posso dare la sufficienza a prescindere frosinone ho dato un 5 allora mi è spiaciuto dare 5 al frosinone ma glielo ho dato per un semplice motivo sei penultimo e quindi è vero che è la tua posizione naturale cioè si sapeva che non è che si poteva chiedere di più al frosinone è lì se la può ancora giocare fino alla fine a sei punti di ritardo dall'empoli ma non è a meno 15 come lo era il benevento l'anno scorso che poverino al primo punto lo fece con il milan grazie al gol dal portiere all'ultima giornata di andata del girone di andata quindi capite che lì fare un punto dopo 19 partite sei matematicamente in serie b a meno che non viene giù l'arcangelo gabriele o se magari fai una campagna acquisti fenomenale che ti permette di vincere almeno 10 partite su 19 e pareggiarne almeno altre due o tre allora magari riesci miracolosamente ma con un punto è difficilissimo invece lì a 10 se la può ancora giocare però è penultimo più di 5 non gli potevo dare 5 che darò anche che do anche al bologna sia perché ci si aspettava molto di più addirittura sigvol me l'aveva messo al settimo posto quando ho visto la sua classifica settimo posto al bologna dico boh si vede che ha preso dei giocatori che io non conosco che sono fortissimi che gli faranno fare un salto di qualità spettacolare aggiunto al bel gioco che aveva dato pippo in zaghi al venezia magari anche il bologna farà un bellissimo gioco e sarà la sorpresa del campionato invece la sorpresa in negativo del campionato quindi 5 al bologna sicuro come loro veniamo all'empoli empoli 16 punti a cui ho dato un 6 pieno perché comunque è salvo è tranquillo con andreazzoli faceva un bel calcio adesso con iachini non fa un bel calcio ma iachini se non sbaglio adesso non mi ricordo se è andato al sassuolo no forse al sassuolo comunque con l'allenatore che adesso l'empoli sta facendo sicuramente un calcio magari meno bello ma più pragmatico che porta a casa punti certo non è che vince sempre non è però il suo lo fa anche contro l'inter ha fatto la sua onesta partita e ha messo in difficoltà comunque la squadra di spalletti che alla fine l'ha spuntata però non è che ha fatto una passeggiata de salute come se sol dire quindi l'empoli 16 tranquillo dopo il girone di andata è quarto ultimo ma è salvo quindi la sufficienza per adesso gliela do magari a fine campionato se dovesse ahimè non dico nulla ma se dovesse succedere quello che i tifosi dell'empoli non si augurano dovrò dargli l'insufficienza veniamo alla spall che è appunto sopra l'empoli quindi gli do un bel 6 più perché anche la spalla squadra che anche l'anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia ma che nessuno si aspettava se riuscisse a salvare invece ce l'ha fatta e complimenti anche alla società per aver tenuto l'allenatore semplice lo stesso quindi anche se la squadra era in zona retrocessione piede eccetera tenuto hanno sempre puntato sullo stesso allenatore e i risultati gli stanno dando ragione poi la squadra sanno benissimo che è quella che è se dovesse retrocedere non credo che a ferrara ne faranno un dramma però per ora è tranquillamente salva con quattro punti di vantaggio sulla terz'ultima veniamo all'udinese che ha 18 punti quindi gli ho dato un bel 6 e mezzo l'anno scorso l'udinese si è salvato all'ultima giornata eccetera e quest'anno è perfettamente sopra la linea di galleggiamento con ben 5 punti di vantaggio sulla zona b quindi sulla zona retrocessione quindi campionato più che sufficiente non ha dei fenomeni a possetto a inglese che adesso pare che voglia andarsene eccetera no inglese gioca nel parma scusate a possetto a all'altro attaccante a lasagna giusto lasagna quello che ahimè non segna mai c'ha depol c'ha buoni giocatori poi a centrocampo eccetera quindi 18 punti e lì tranquillo 6 e mezzo glielo do bello pieno veniamo al genova che a 20 punti 6 e mezzo anche lui gli avrei voluto dare un po di più ma il casini che ha fatto il signor preziosi che prima mi caccia ballardini perché mi perde col parma cioè signori il parma ha battuto anche l'inter a san siro quindi non puoi andare a dire a ballardini che il parma è una squadretta di gomma che non conta un tubo che fa che fa schifo e che avete perso contro per di più in una partita in cui è vero che hanno preso tre gol però un gol del genoa è stato annullato un altro gol del genoa è stato salvato sulla riga che il pallone era dentro di tanto così tanto così ecco questa è la palla e toccava di tanto con i due centimetri sulla riga perché sennò era rete un gol e gli hanno annullato con espulsioni mica è successo di tutto in quella partita lì è stata equilibratissima eccetera finita 3 a 1 può capitare no lui va a esonerare l'allenatore perché non gli piace va a prendere Juric che praticamente quando è stato lì non so quanti punti ha fatto ma avevi l'attaccante che ti segnava tocca la palla segnava sembrava quello che ogni cosa che tocca diventa oro ecco è arrivato Juric ha smesso di segnare lo tieni lì qualche giornata per poi ricacciarlo andare a prendere Prandelli che non allena da due anni e va bene secondo me se non si avesse tenuto Ballardini il genoa adesso sarebbe a pari col Parma a 25 punti tranquillamente ha deciso così il signor preziosi il giocattolo è tuo ne puoi fare ciò che vuoi quindi sei e mezzo al genoa sei e mezzo anche al Cagliari a 20 punti quindi sufficienza più che piena potevo essere più alto però sono squadre che comunque sono nella parte sinistra della classifica quindi non è che gli posso dare dei voti altisonanti stanno facendo il loro dovere stanno facendo bene sei e mezzo vuol dire che comunque sono promossi quindi Cagliari che sta facendo bene c'è sempre il suo Gioao Pedro che segna c'è Pavoletti che puccia sempre il biscotto c'è quell'altro che segna anche lui di giocatori bravi ne ha poi c'è Barella tanta roba se lo tengono loro sono tranquillamente salvi poi sono a 20 punti sono a metà del Guado perché la salvezza è a 40 loro sono a 20 dopo metà campionato quindi sono in perfetta media veniamo al Parma a cui ho dato un bel sette e mezzo vale lo stesso discorso che facevo per il Cagliari e il Genoa non posso dare dei voti altisonanti a squadra che comunque sono sempre nella parte destra della classifica però il Parma sta facendo un campionato che definirei della Madonna perché signori miei hanno fatto una settimana di mercato prendendo quello che sono riusciti a raccattare hanno iniziato il campionato non potendo utilizzare dei giocatori perché qui perché su perché giù non erano tesserati non lo so quindi erano lì con i giocatori contatti sono partiti con quello che avevano e hanno fatto dei miracoli incredibili anche perché da Versa come hanno spiegato in tanti fa un gioco bastardello si mette lì schiscio pensa allo 0 a 0 poi c'è il gervinaus che quando meno te l'aspetti tac ti puccia il biscotto e poi fagli gol al Parma non è così facile poi va bene hanno anche un po di fortuna eccetera perché senza fortuna non vai da nessuna parte però se la meritano veniamo al sassuolo a cui ho dato un sette all'otto tra il sette e l'otto proprio perché il sassuolo anche lui nessuno si aspettava che facesse il campionato che sta facendo l'anno scorso si è salvato per il rotto della cuffia quest'anno ha preso Boateng in più però non è che ha fatto un mercatone pazzesco che uno dice minchia il sassuolo libidine eccetera ha fatto un buon mercato e sta facendo un ottimo campionato sia il Parma che il sassuolo sono lì nel limbo che se fai un paio di vittorie in più sei in zona Europa League tranquillamente due vittorie di fila ti spediscono in in zone Europa League due sconfitte di fila comunque ti lasciano ampio margine di di vantaggio sulle squadre che lottano per non retrocedere che tra l'altro stanno facendo il passo della lumaca quindi sassuolo e Parma potrebbero anche perdere quattro partite di fila essere comunque tranquillamente in zona salvezza senza problemi veniamo alla Fiorentina Fiorentina a cui ho dato un 6 e mezzo perché sta facendo senza infamia e senza lode il campionato che stava facendo lo scorso anno anche lei è sempre lì nella zona Europa League me la gioco 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 porca miseria per due punti non ce l'ho fatta ecco questo è il campionato della Fiorentina e Europa League Europa League Europa League ce la faccio ce la faccio ce la faccio no non ce la faccio e lì se la gioca però per ora non ha fatto nulla di eclatante c'è un Simeone che non segna più l'anno scorso segnava sempre quest'anno Simeone infatti quando ha segnato ultimamente si sta svegliando un attimino era un po' inviperito con i tifosi che ce l'hanno su con lui ma figliolo se non segni tu sei un attaccante il tuo compito è segnare non ti chiedono di segnarne 30 ma almeno 15 in un campionato li devi fare e a 4 forse adesso non so se a 4 5 non ho guardato la classifica cannoniera chiesa fa il suo la difesa è buona c'hanno il ragazzino che sarà di belle speranze il portierino la font però deve deve mangiarne di pagnottelle per arrivare a livello veniamo al torino di al simpatico mazzarrone a cui ho dato anche a lui un bel sei e mezzo proprio perché anche lui è lì dove era l'anno scorso anche l'anno scorso il torino era lì in zona europa lì ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio e poi ahimè sempre per pochi punti si è dovuto accontentare del nota o nono decimo posto però è lì sta semplicemente rifacendo il campionato dello scorso anno punto più punto meno quindi sei e mezzo quindi sufficienza più che piena anche al toro veniamo all'atalanta a cui ho dato un sei e mezzo ma poteva essere qualcosina di più perché ripeto l'atalanta si sta ancora confermando come l'anno scorso io infatti l'ho ripronosticata settima come l'anno scorso quindi nuovamente in europa league nonostante il simpatico si fa per dire gasperini a inizio campionato se ne voleva andare ha fatto il cinema mi avete mi avete abbassato il valore della squadra e questa e quell'altra non potete pretendere di fare il campionato dello scorso anno con questo io dicevo ne hanno cambiato petania con zapata già lì hai messo una punta di peso forte eccetera non che petania sia scarso però segna poco zapata è uno che puccia il biscotto un po' più spesso è anche lui un bello mone bello bello forte magari ti fa salire un attimino meno la squadra perché non è quel propriamente quel tipo di giocatore però uno che la mette infatti si sta vedendo per di più col gioco di gasperini che è sempre bello tecnico frizzantino eccetera uno come zapata adesso si vede sta andando a poi hanno quell'illici che quando entra fa disastri agli altri quindi boh però per ora sei e mezzo perché è lì è lì è lì e poi perché ahimè è uscita col copenaghen e vedendo come sono andati i gironi di europa league uscire col copenaghen non è bello non è una cosa bella però sono stati anche sfortunati perché se perdi i calci di rigore lì è sfighella veniamo alla sandoria cui ho dato un bel 7 perché la sandoria nessuno si aspettava che fosse così 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 a ridosso delle prime è a tre punti dalla zona champions è la lazio 32 la sampe a 29 la rome a 30 al milano a 31 quindi è zona in questo momento se finisse il campionato adesso la sandoria sarebbe potrebbe essere in europa lì dipende da chi vince la coppa italia perché se la coppa italia dovesse vincere una fiorentina la sampe non è in europa lì ma teoricamente le squadre che dovrebbero vincere la la coppa italia naturalmente la juve napoli inter milan lazio eccetera teoricamente poi tutto può succedere però una delle prime 7 teoricamente dovrebbe vincere la coppa italia lasciare il posto libero alla settima quindi la sampe in questo momento è in europa lì quindi un bel 7 anche alla sampe già la sampe 7 lo do anche alla roma e probabilmente qua molti storceranno il naso anche perché io la roma l'avevo pronosticata campione d'italia ma l'avevo pronosticata campione d'italia perché dire lo scudetto lo vince la juventus era troppo scontato e allora preferite buttarla lì lo vince la roma tanto così più che altro perché sti poveri disgraziati ma è una gioia sono dieci anni che non vincono il nulla più totale l'ultima volta che ha vinto qualcosa 2007 la coppa italia poi basta il nulla si si qualificano sempre per la champion sono soddisfazioni per ogni tanto portare a casa un trofeino non sarebbe una cosa brutta 7 anche perché comunque si sono qualificati in champion come secondi ma se la sono giocata con la con real fino alla fine se non avessero perso come dei pinocchietti contro il vittoria magari avrebbero pure scavalcato il real madrid visto che è riuscito a perdere però va bene così dai 7 secondo me è un buon voto anche perché hanno perso strotman hanno perso ngolan sono arrivati 12 13 giocatori nuovi ma non sono tutti ragazzi giovani cristante giovane clivert è giovane zagnolo è giovane in difesa manolas ogni tanto qualcosina perde di concentrazione combina qualche disastro però resta tra i migliori anche se qualcuno ha detto che manolas è fortissimo è il difensore più forte d'italia va bene ognuno si tiene le sue cose però ripeto la roma per me è un bel set se lo porta a casa veniamo al milan a cui ho dato un 6 un 6 perché alla fine della fiera il milan è dove deve stare al quinto posto io l'ho pronosticato quinto quindi è lì al quinto posto se dovesse arrivare quarto in champions come si augura il mio amico luca sarò ben felice di dargli un 8 perché secondo me il milan è già tanta roba se arriva in europa league visto che guain è inciccionito cutrone non segna più tantissimo come prima ci hanno una marea di infortunati come rientra uno si fa male quell'altro eccetera 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 quindi il 6 io glielo voglio dare lo stesso anche perché comunque una squadra che al quinto posto non puoi dargli un voto insufficiente veniamo alla lazio a cui ho dato un 7 più perché nessuno si sarebbe mai aspettato da una lazio che pronti via con la juve perde con napoli perde con l'inter perde con la roma perde col milan mi sembra che ha perso hanno appareggiato all'ultimo minuto eccetera in casa quindi non vince uno scontro diretto neanche a piangere però vince le partite che deve vincere e si trova in questo momento se il campionato finisse adesso la lazio sarebbe in champions alla facciazza di milan e soprattutto della roma quindi tanto di cappello a questa lazio che vince le partite che invece deve vincere in europa league non è andata benissimo la entra francoforte la pettinata sia l'andata che al ritorno e adesso per di più si è beccata al civiglia quindi sono dolori a febbraio però staremo a vedere cosa succederà però per ora la lazio promossa pieni voti veniamo all'inter a cui ho dato un 6 e mezzo 6 e mezzo perché l'inter è dove deve stare non sta facendo nulla di eclatante sta facendo semplicemente il suo dovere io l'ho pronosticata terza e terza quindi 6 e mezzo cioè non stai facendo quel qualcosa in più sei terza non ti sei qualificata in champions buttandovi una partita in casa che avresti dovuto vincere anche se il resto dell'idea che è stato meglio così perché non siamo ancora pronti per affrontare gli ottavi di champions eccetera io mi auguro che in europa league giochino seriamente se devono uscire escano con tre squadre tre squadre io accetto l'eliminazione dell'inter in europa league solo da tre squadre napoli celsi e arsenal se escono con qualsiasi altra squadra non me ne frega niente è una bocciatura netta perché vuol dire che l'hai buttata via te e esigo almeno la semifinale col napoli di coppa italia sempre se non a meno che non passa al milan perché i milanisti sono convinti di andare loro in finale o di giocare di giocare contro di noi la la semifinale di coppa italia eliminando il napoli io ci credo poco per me la semifinale sarà inter napoli e dall'altra parte dovrebbe essere roma juve poi succeda quello che succeda veniamo appunto stavo parlando di napoli al napoli a cui ho dato un bel otto do solo un otto al napoli perché ahimè si è fatto eliminare dalla champions in un girone che sembrava impossibile e che invece se avessero vinto con la stella rossa sarebbero passati loro ahimè hanno fatto 0 a 0 una partita che strameritavano di vincere a belgrado a belgrado se non sbaglio e che se avessero vinto li avrebbe proiettati tranquillamente in semifinale mandando in europa league il liverpool perché anche se avesse vinto il liverpool non li avrebbe presi lo stesso ahimè quindi do un otto al napoli che sta facendo il campionato che doveva fare anche lui non me l'aspettavo perché non l'hanno rinforzato hanno preso il miglior allenatore ma non gli hanno preso grossi giocatori non è che hanno ha mantenuto più o meno la stessa squadra hanno preso un paio di giocatori estra malcuit eccetera ma non è che hanno preso dei fenomeni e quindi il napoli sta facendo il suo purtroppo manca sempre la monetina per fare l'euro perché quando c'è la partita che deve vincere la perdono sistematicamente o la pareggiano quindi otto al napoli che comunque è un bel voto e infine alla juventus che cosa volete dargli a una squadra che 17 vittorie due pareggi in champions va male ma non sappiamo due sconfitte va male per modo di dire il girone l'ha vinto però signori miei una squadra che in serie a fa 17 vittorie due pareggi in champions sei partite due sconfitte c'è qualcosa c'è qual quadra che non cosa come diceva qualcuno quindi ahimè juventus 10 non gli do la lode però aspetto di vederla in champions cosa combinerà perché se tanto mi da tanto che mi perdi due partite su sei non vorrei che già a carnevale il carnevale finisce male come cantava la caterina caselli poi il campionato ormai è già in tasca loro quindi nulla da dire bene ho detto tutto fatemi sapere voi cosa ne pensate dei voti che ho dato se vi piacciono non vi piacciono se avreste dato dei voti diversi eccetera 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 e ci vediamo al prossimo video ciao